qui collegati in diretta buonasera a tutti io sono matteo pittaluga fabio gallerani e siamo veramente contentissimi di essere qui questa sera oggi serata storica perché siamo qui per presentare tutti i dettagli della prossima all inners conference l'evento degli eventi il più grande evento di crescita personale business e marketing digitale che si svolgerà in italia quest'anno la data è domenica 6 ottobre domenica 6 ottobre ti aspettiamo a milano all nh congress center questa sera daremo più dettagli sull'evento presenteremo anche tutte quelle che sono le opzioni per esserci intanto io vi saluto vi ringrazio per essere qui buonasera gabriele buonasera tutte le persone che si stanno collegando e io chiedo un grande favore ragazzi se è possibile di condividere questa diretta su tutti i nostri canali sulle vostre pagine sui gruppi di marketing genius condividete 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 ovunque vado anch'io a condividere questa diretta in modo da poter arrivare a più persone possibili dato che facebook è un po' buggato purtroppo a volte non ti metti in evidenza diciamo i tuoi post tutto quello che fai ok siamo già in tanti collegati vado anch'io a condividere vi chiedo un favore enorme ragazzi condividete 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 vado anch'io a condividere in diretta sulla mia pagina e chiedo al supporto di marketing genius per favore di condividere questo video la diretta sul gruppo all inners family sul gruppo di marketing genius movement su tutti i nostri gruppi in modo da poter arrivare a più persone possibili ciao andrea ciao anche o ragazzi state arrivando tutti eccoli qua eccoli qua massimo padula luigino fabrizio ok 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 ci siamo ci siamo ci siamo fantastico immendo il cash supremo ciao ragazzi benvenuti allora si stanno ancora collegando in tanti io passo la parola a fabio gallerani prima di iniziare vai fabio mi senti pitta sì ti vedo leggermente ti vedo bloccato nelle immagini però ti hai bloccato ma io parlo lo stesso anche se si sta riavviando il video ragazzi benvenuti questa è la il secondo web in realtà perché l'all inners conference è stata annunciata ma apriamo i tiche standard e premium quindi questa sera grandi annunci non sarà webinar adatto tutte quelle persone che non amano le emozioni forti io adesso resetto la telecamera e torno in diretta con te matteo se vuoi che iniziamo già on fire a condividere lo schermo io sono pronto parto subito allora ragazzi vado a condividere lo schermo e dentro nel vivo della presentazione per parlare di questo evento leggendario presentazione ufficiale all inners conference 2019 blocca la data ok domenica 6 ottobre ora in questo momento vai sul tuo calendario blocca la data domenica 6 ottobre devi essere con noi a milano mettiamo però in chiaro una cosa questo non è un evento di vendita no sales pitch cosa vuol dire tantissime volte ci capita di andare a degli eventi dove gli organizzatori portano le persone dal vivo per poi vendere io questo l'ho detto più volte anzi torno in video apposta per parlarti di questo se ti va tanto riporto su fabio che è riapparso eccolo qui eccolo qua stavo dicendo un evento no sales pitch cioè senza vendita siamo gli unici a organizzare una cosa del genere questo perché ragazzi noi siamo stati a tanti eventi nella nostra vita ci è capitato però a me molte volte di per spendere soldi in biglietto per l'evento spostamenti hotel e poi quando arrivi lì a partecipare all'evento ti vendono altra roba eventi fuffa dove ti invitano lì ti fanno le presentazioni eccetera e poi ogni speaker ha qualcosa da vendere ogni speaker ti lancia un'offerta vogliono solo venderti ok quindi è stato molto brutto come nostra impressione noi siamo dell'idea che se c'è da vendere qualcosa si organizza un webinar come può essere questo dove si presenta un prodotto ma quando si fa un evento lì c'è in gioco veramente il tempo delle persone e il tempo la cosa più preziosa che abbiamo nella nostra vita quindi abbiamo deciso facciamo una cosa diversa facciamo un evento di formazione un vero e proprio corso dal vivo dedicato a chi vuole veramente andare al next level abbiamo preso i migliori business crescita personale strategie digitali e abbiamo creato un evento dove tutti gli all inners questa cultura imprenditoriale che noi divulghiamo la cultura di essere all in nella vita le persone che non mollano mai le persone giuste vengono a questo evento si possono formare possono incontrare altre persone che condividono lo stesso percorso e possono darsi forza potenziarsi a vicenda questo è lo spirito dell'all inners conference allora abbiamo detto intanto torno in presentazione abbiamo detto facciamo un evento dove non c'è vendita ok quindi no lanci di prodotti noi interventi di vendita no trucchi ok no funnel per portarti poi a fare altre azioni 100 per cento qualità e valore garantito puro valore tecniche strumenti e strategie pratiche solo e unicamente formazione di alta qualità questo non è nemmeno l'evento dove siamo lì a lavagna no a spiegarti le cose no è l'evento dove ti mostriamo come fare le cose chi mi conosce lo sa sa qual è il mio modo di spiegare sa qual è il mio modo di insegnare all'evento abbiamo deciso di fare questo quindi ritorno alla magia è il nostro obiettivo appunto questa sera è condividere un po le storie degli eventi a cui abbiamo assistito unire tutto il movimento all inners e creare un evento mai visto prima in italia che è importante è aperto a tutti quindi non devi essere una persona che ha comprato un prodotto da noi non devi necessariamente essere un nostro cliente non devi essere parte di marketing genius abbiamo creato questo movimento che si chiama all inners per coinvolgere le persone che si sentono imprenditori dentro che non significa avere la giacca e la cravatta o gestire dieci aziende significa volere di più della propria vita se vuoi di più della tua vita sei un imprenditore giusto fabio chiariamo questo concetto perché per me è uno dei capisaldi del della cultura all inners esatto io e matteo abbiamo fondato nel 2016 marketing genius che oggi è una piattaforma di formazione digitale che porta chi ha un progetto o chi ha un'idea a realizzarla ma poi ci siamo accorti che queste questi strumenti erano utilizzati da alcuni in modo più efficace che da altri e quindi abbiamo creato una cultura chiamata all inners che si basa sulla parola all in che oggi è un brand e riconosce tutte quelle persone che hanno un obiettivo e bruciano il piano b infatti noi non crediamo che tu debba differenziare non crediamo che tu debba avere un'alternativa se no non ce la farai mai soprattutto nel caotico mondo digitale e per questa ragione che all'inizio i nostri eventi si chiamavano marketing genius live erano gli eventi dal vivo di marketing genius e poi ci siamo spostati nel chiamarli all inners conference ovvero un posto un evento dove centinaia e centinaia di persone dall'imprenditore che fattura decine di milioni al alla persona che ha un'idea e non ha mai avuto la chance per farla per applicarla per realizzarla si possono incontrare l'energia che si respira pazzesca perché perché quando incontri persone che hanno preso una scelta cioè non mollare mai nel loro progetto professionale c'è qualcosa di cui discutere c'è quell'energia positiva perché nessuno ha l'idea o l'opzione di andare lì e provarci tutte le persone che vengono all inners conference sono persone che vogliono farcela e ci sono stancate di di provarci quindi questa è un po la ragione per cui si chiama all inners conference oggi il nostro evento dal vivo assolutamente la cosa importante è questo quello che noi vogliamo trasmettere ragazzi c'è la cultura all inners a volte vedo persone che hanno fatto cose incredibili nella loro vita e ieri sera parlavo con no l'altra sera abbiamo fatto una cena con i membri del nostro mentor program tra l'altro è stato un bellissimo evento dal vivo un micro evento che non qualcosa di stellare come la all inners conference però un bel evento dal vivo con alcune persone che sono nostri clienti nostri amici che hanno lavorato insieme a noi nel mentor program e qualcuno arriva e mi dice matteo io trovo una difficoltà incredibile da parte delle persone che magari si approcciano al digitale perché hanno paura hanno paura di non essere portate a fare questo hanno paura di non essere in grado di usare la tecnologia di usare un telefono di fare gli annunci su facebook di fare le cose tecniche e io a volte ragiono su questo mi viene un po da ridere perché penso cavolo c'è magari c'è la mamma che ha cresciuto da sola due figli magari senza il marito magari in condizioni difficili e ha fatto già le cose più incredibili cioè se sei mamma lo sai è una delle cose più difficili che c'è al mondo ok e poi ti fermi davanti magari al click da fare sul sito quando magari da solo hai tirato su due figli mantieni una famiglia e fai mille cose incredibili ragazzi noi come persone siamo straordinari l'essere umano è straordinario possiamo fare veramente quello che vogliamo con la nostra vita il nostro obiettivo è condividere questa mentalità la mentalità all inners chissà di potercela fare e va avanti fino alla vittoria quindi se sei così se ti risuoni in qualche modo con il nostro messaggio sei un all inner vieni all'evento se vuoi di più della tua vita vuoi costruire un business vuoi emergere come persona ti vuoi realizzare nella carriera anche paradossalmente da dipendente se vuoi fare il dipendente hai bisogno comunque di più qualità hai bisogno di più forza interiore magari di più capacità che puoi spendere sul mercato vieni all'evento perché non sei un dipendente il tuo lavoro è da dipendente ma tu non sei un dipendente tu sei un imprenditore di te stesso questa è un po la cultura all inness che noi abbiamo creato una cultura imprenditoriale di persone che non mollano mai che sono all in come quando nel poker metti tutte le pesce sul tavolo e dici io vado all in questo è quello che ho fatto io quella notte in cui a makai in australia usci dal lavoro presi tutti i miei abiti da cameriere li buttai nel fiume molte volte avete sentito raccontare questa storia io quello il giorno in cui sono andato all in ho detto non mi importa quello che succede adesso io prendo questa roba non mi appartiene più io non voglio fare questo lo butto via e faccio di tutto di più per realizzarmi la gente mi rideva in faccia mentre tornavo a casa però io dentro di me ho preso una decisione che avrebbe poi cambiato il resto della mia vita ora io mi domando cosa sarebbe successo se non fossi andato all in se anziché buttare quei vestiti nel fiume avessi detto no vabbè li tengo addosso ancora un po il tuo piano b magari che perché io voglio precisare una cosa matteo poi ti lascio proseguire che sono molte persone che hanno anche paura ad andare a un evento del genere perché non hanno risultati giusto e queste persone voglio fare un appello a queste persone che stanno partendo l'holiners conference è l'unico evento in cui tu non verrai mai giudicato anche se non hai risultati perché perché proprio nel momento in cui decidi di partire di liberarti dalle opinioni negative degli altri che inizi il tuo percorso verso i risultati quindi lancio un appello a tutti voi che magari state iniziando adesso che sono sei mesi che martellano ma non avete risultati l'holiners conference è l'evento che abbiamo pensato principalmente per voi ok per darvi un ambiente protetto per fare in modo di prendere quella spinta e andare e continuare a persistere per fare risultati e ripeto questo non è un evento motivazionale ok c'è tanta motivazione c'è tanta carica c'è uno spirito bellissimo ma un evento di cose concrete e pratiche questo tendo a precisarlo e tornando a quel giorno io ho preso la decisione di andare all in non mi sono dato più alcuna opzione allora se risuoni in qualche modo con questo messaggio se vuoi prendere la tua vita a fare qualcosa di straordinario viene all'holiners conference e vedrai cosa vuol dire vedrai lo spirito che si respira è un qualcosa che non hai mai vissuto prima anche perché diciamo marketing genius la cultura all inners è un qualcosa che è super parties cioè è sopra tutte le parti quindi realmente non ci interessa se magari fai un business piuttosto che un altro non ci interessa se sei in un'azienda piuttosto che un'altra alla fine della storia lo dico sempre le aziende i prodotti sono dei mezzi sono dei mezzi attraverso i quali noi mandiamo fuori la nostra missione no creiamo valore nel mondo la missione è superiore proprio come il nostro obiettivo creare la cultura all inners è un qualcosa che è superiore ok superiore all'azienda stessa per questo che anziché marketing genius che poi è un po il nostro sito abbiamo deciso di chiamare questo evento all inners conference quindi per questo che in tanti chiedono ma perché non si chiama marketing genius alla fine voi parlate di business di marketing abbiamo chiamato all inners conference perché è un concetto più ampio va bene che va un po a poi avere un impatto su tutta la tua vita a proposito prima di continuare ragazzi potremmo citare centinaia di storie centinaia di storie a me me ne vengono in mente un paio di persone che hanno capito veramente cos'è la mentalità all in ho fatto un post ieri riguarda Ione Ione Ciceri è una donna una pensionata se non sbaglio Ione hai penso che sia collegata 73 anni se non sbaglio rimasta vedova da sola quindi insomma è lì che poteva benissimo dire basta lascio perdere no sono in pensione rimango lì e sto a casa con il mio cane non faccio nulla tutto il giorno invece lei sai cosa ha deciso di fare ha deciso di fare l'impanitrice digitale una donna di 73 anni da sola che si mette in gioco completamente non ha mai fatto niente prima questo è lo spirito degli olinnes ragazzi se ce la fa una pensionata così come anche abbiamo altre donne un po più avanti con l'età non non oso chiamarle anziane perché in realtà anziano cos'è anziano è una roba nel cervello non è quanti anni hai ok parlo persone avanti con l'età che decido di mettersi in gioco come vanda ne abbiamo tantissimi e quando ho visto Ione superare l'esame digital marketer con l'università marconi international voglio dire cioè ragazzi c'è gente di 20 anni che non ce la fa nella vita non dico che non ce la fa con lo studio non ce la fa nella vita cioè decide di non studiare decide di non lavorare decide di non fare nulla magari inizia a drogarsi magari si perde completamente e poi dall'altro lato c'è la pensionata che fa digital marketer con la sua sedia da youtuber con il suo microfono e la webcam e spacca il mondo allora io voglio dire dov'è la differenza non è né quanti anni hai né qual è stato il tuo passato no né quanto è stato facile difficile per te arrivare fino ad oggi qui quello che fa la differenza è quello che hai qui dentro quanto all in decidi di andare nella vita c'è un'altra persona massimo padula che lavora con noi in tanti lo conoscete sono certo che anche collegato massimo decide di lasciare anche lui gli studi non ha completato il liceo non è andato avanti una persona molto umile una vita normale però decide di rimettersi in gioco oppure lui si prende il certificato digital marketer ha stravolto completamente la sua vita una persona che non era portata per lo studio che non aveva esperienza nel digitale adesso lavora con noi marketing genius ha lanciato il suo business ha lanciato il suo brand ma voglio dire ragazzi ma guardate dove si può arrivare in un anno un anno o due della tua vita se veramente decidi di andare all in i risultati ci sono ce ne sono tantissimi li conosciamo sì infatti massimo è collegato dice mindset cosa vuol dire mindset vuol dire la mentalità vuol dire come tu prendi le situazioni che ti arrivano là fuori e decidi di usarle a tuo vantaggio questa è la all inners conference questo è quello che noi vogliamo fare trasformando più persone possibili ma non le trasformo io e non le trasforma nemmeno fabio le trasforma tutto quello che si va a creare insieme questo è l'effetto che avviene quando viene ad un evento come questo siamo in 300 in questo momento collegati condividete ragazzi condividete vogliamo avere un impatto su tutti gli imprenditori vi chiedo di condividere questo questa diretta perché è un qualcosa di incredibile gli eventi non sono il nostro core business come sapete noi siamo insegnanti siamo docenti facciamo marketer siamo imprenditori anche gli eventi non sono il nostro business ok dalla conference noi non ci guadagniamo niente vogliamo fare questa roba per creare qualcosa che poi veramente abbia un impatto sulle persone quindi condividete questa diretta e veramente cerchiamo di dare un impatto su tutte le persone vuoi dire qualcosa fabio se non preparo la presentazione no volevo aggiungere quello che appena detto che a parte il business creare eventi eccetera che assolutamente posso affermare che il nostro fatturato giornaliero supera il profitto di un evento organizzato in sette mesi quindi a parte questo che ci porta però a farlo in ogni caso perché molti imprenditori digitali si sono astenuti nel fare eventi dal vivo proprio per questo troppo stress zero guadagno ma a parte questo quello che voglio dirti che come dice Matteo non siamo io e lui che ti trasformiamo sei tu che isolandoti da persone che ti dicono che non ce la puoi fare in qualsiasi progetto tu abbia sei un avvocato sei un imprenditore con 50 dipendenti sei un dipendente che vuole cambiare tu hai bisogno di stare attorno a persone come te o l'inners come ha detto Matteo è una cultura superiore che io metto anche sopra a qualsiasi formatore in Italia nel senso che se tu magari fino ad oggi hai seguito qualcun altro adesso seguimi Matteo va bene lo stesso se uno l'inner se una persona che anche se hai fallito seguendo qualcun altro ce la puoi fare e per questa ragione quando abbiamo creato l'inner come brand come stile di vita di chi non molla mai abbiamo pensato a questa a cosa può essere superiore alle competizioni corsi di qualcun altro eccetera può essere solo la mentalità di isolare quelle persone che vogliono di più dalla massa che gli dice che non può farcela che non possono farcela dai granchi che ti tirano giù nel secchio quando tu vuoi eccellere per questa ragione torniamo in condivisione andiamo un po' a vedere che bombe di news abbiamo questa sera per te vediamo qualcuno che chiedeva la tua storia ragazzi per conoscere la storia di fabio visitate il suo sito e la conoscerete assolutamente preparando un cortometraggio di 50 minuti perché mentre c'è chi fa un articolo sulla sua storia io ho preparato proprio un cortometraggio dove sono tornato nel passato e uscirà a settembre quindi ci sarà a divertirsi queste sono alcune foto del nostro primo evento storico a rimini era 23 settembre 2017 ci siamo divertiti un sacco vedete i volti sorridenti questo è il momento più importante è il momento dei braccialetti all in i braccialetti degli all inners che portiamo tutti con grande orgoglio che per noi rappresentano tantissimo questo è stato il secondo evento a roma eccoci qui sempre sul palco a premiare i partecipanti con i braccialetti questa mattia premiato all inners dell'anno ci saranno vari premi anche al prossimo evento questo è uno dei nostri ospiti david brown li qui tutti gli speaker il terzo evento a cervia è stata la prima volta che abbiamo usato questo nome all inners conference era il 29 settembre 2018 questa è una sala bellissima carica di persone veramente incredibili e questa sera però tutto il team di marketing genius orgoglioso di presentare il prossimo grande evento live vi dico che è veramente grande perché si terrà a milano domenica 6 ottobre quindi segnati la data domenica 6 ottobre milano la location è l'nh congress center di assago fabio tu l'hai visto è un posto disumano semplicemente qualcuno c'è stato ragazzi l'avete visto l'nh che posto è l'avete visto ragazzi è un posto veramente incredibile ok mi senti fabio sì 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 no volevo aggiungere che è così grosso il centro congressi che è un blocco a parte dall'hotel e appunto eravamo lì domenica io sabato sono andato lì in luogo per fare il video promo che uscirà in cui vi porterò proprio in avventura nel tour per farvi vivere in anticipo quello che succederà a questo evento e mentre stavano allestendo la sala ci hanno fatto vedere tutti gli spazi sono enormi quindi centinaia di persone per questo evento avremo tantissimo spazio proprio un centro congressi enorme non so quante se forse non so centinaia di migliaia di metri quadri mi viene da dire è incredibile ragazzi lo invadiamo completamente questo questo giorno domenica 6 ottobre a milano ok congress center di assago quindi questa qui la location questa qui la nostra sala guardate che potenza che quattro maxi schermi palco gigante qualcosa di incredibile ok una cosa molto importante per noi sono gli spazi infatti l'nh congress center ha veramente ottimi diciamo saloni bar dove è possibile diciamo passare del tempo insieme e questo per me fa la differenza ad un evento ragazzi perché una parte importante dell'evento è sicuramente assistere a quello che succede in sala e andare a vedere diciamo gli speaker sentire il training e tutto ma un'altra parte veramente importante puoi conoscere le persone infatti chi è stato ai nostri eventi lo può confermare è veramente bello poi conoscersi passare il tempo insieme scambiarsi anche idee tecniche e non avete idea di quante startup quanti business sono nati da chi era l'holiness conference non avete veramente idee ci sono anche persone che si sono conosciute si sono messe insieme quindi se stai cercando l'amore vieni se stai cercando un business partner vieni se stai cercando un'opportunità vieni se stai cercando persone con cui condividere lavorare insieme vieni ok ti dico solo questo sarà veramente una roba pazzesca la mia milano grande michele vieni michele ha detto che ci ha lavorato all'nh grande grande quindi michele ci farà il corso lin il mio business è decollato grazie al corso lin ho sempre pensato che nella vita se credi in te stesso devi mollare non devi mollare grandissimo oggi attiva sul web voi potete aiutare a fare la differenza grande ottimo ottimo allora veniamo ai dettagli supremi ragazzi eccoci qui perché c'è qualcosa di incredibile in questo evento e mi raccomando però segna la data 6 ottobre 2019 domenica 6 ottobre 2019 questo è l'hotel nh congress center di assago 15 minuti dal centro in metro quindi ci arrivi in un attimo da milano centrale è un centro congressi con 255 camere ultra ultra moderno abbiamo una scontistica anche per chi vuole dormire lì il link nella pagina dell'evento è qui in descrizione in questo momento è offline chiaramente alla fine del webinar metteremo online quella pagina quindi qui sopra esattamente in questo video se sei su facebook è sopra nel post e metteremo anche il link nei commenti se sei su youtube è sotto in descrizione c'è il link con la pagina dell'evento puoi prendere una singola 119 euro o una doppia 139 euro la colazione è inclusa ed è ovviamente uno sconto solo per i partecipanti alla conferenza non è obbligatorio passare la notte in hotel però ecco noi saremo lì e ci fa piacere per chi per chi vuole rimanere andiamo a vedere i dettagli allora sabato 5 c'è il millionaire workshop vip sono praticamente cinque ore con un gruppo ristretto di persone che hanno già preso il posto vip questo è sold out però ok lo ricordiamo questo solamente chi l'ho acquistato in prelazione diciamo sono nati sold out in un attimo e il grande evento poi è domenica 6 io vi dico una cosa ragazzi l'abbiamo già visto abbiamo già fatto uscire i ticket diamond sold out i ticket vip sold out ragazzi non mancherà molto tempo prima di andare sold out anche con i biglietti normali quindi fate azione il link è qui sopra tra poco apriremo i biglietti fate azione prendete il vostro ticket bloccate il vostro posto per la all inners conference questo è il piano dalle 8 c'è la registrazione alle 9 si inizia e poi si fa una full immersion solamente di tecniche e strategie pratiche si chiude poi con le storie di successo e alle 19 si finisce ci sarà poi una cena anche subito dopo tra poco vi darò anche i dettagli questo è il programma dell'evento si parla di traffico quindi facebook google youtube e instagram cosa funziona adesso quindi cosa si fa su queste piattaforme ma solo strategie solo strategie spiegate davanti allo schermo ok vedi esattamente come si fanno le cose si parla di affiliate marketing su come creare strategie per guadagnare a lungo termine con l'affiliate come creare il proprio info business da zero quindi chi non ha niente ha un'idea come la digitalizza come la mette sul mercato parleremo appunto di lancio del proprio business poi fabio si parlerà di come gestire le richieste delle persone e trasformare queste richieste di info in clienti che ti pagano e poi ovviamente mindset e ispirazione e poi c'è una novità importante fabio zona all inners voglio lasciare la parola a te per spiegare cosa è zona all inners che la vera novità di questa di questo evento dal momento che l'all inners conference è un evento creato per le persone tutti coloro che hanno un progetto si sono rotti le scatole di qualcuno che gli dice che non è possibile e come realizzano questo progetto attraverso il marketing digitale quindi strategie pratiche che portano risultati reali vuol dire che i soldi ti entrano in tasca e quei soldi ti cambiano la vita abbiamo visto gente sull'orlo del tracollo oggi ho passato la giornata al centro benessere di una delle mie top clienti non faccio il nome solo perché la conoscete tutti ok lei si chiama claudia con irene e tutto il suo staff ha creato un valore mostruoso io ho visto questo team passare dalla disperazione di lasciar perdere un sogno oggi li vedevo con il fuoco negli occhi ok se andate su instagram vedete che sono lì prima di entrare perché quando sono entrato mi sembrava di essere un altro pianeta le persone fanno la differenza e per questa ragione se tu ci vedrai sul palco insieme agli altri speaker sarà solo perché devi vederci mentre parliamo ma noi vogliamo distruggere e eliminare la distanza tra le persone sedute in sala e il palco perché secondo noi le persone sedute in sala hanno molto di più da condividere per ispirare all'azione per fare risultati soprattutto in questo caotico è difficile perché è difficile mondo digitale per fare in modo che queste persone possano salire sul palco e condividere chi sono queste persone potresti essere tu da qui all'evento di ottobre noi stiamo monitorando la situazione stiamo vedendo le persone che stanno facendo azione che casi di successo miglioramenti quindi dono l'inner sarà un periodo di più di un'ora durante l'evento principale dedicato a te te che hai avuto risultati te che sei nel processo di cambiamento salirai sul palco prenderai il microfono in mano e racconterai la tua storia per ispirare tante altre persone quindi nessuno l'ha mai fatto tutti fanno i fenomeni agli eventi tutti si sentono dio tutti fanno in modo di creare eventi solo per fare i megalomani a noi non ce ne frega niente sai perché perché il riconoscimento è il pane dei poveri te lo ripeto il riconoscimento il pane dei poveri noi non facciamo questo lavoro per essere riconosciuti noi lo facciamo per impattare più persone possibili ok quindi sentiti libero di venire all'evento non sentirti una persona fuori luogo se magari non sei di ultra successo perché perché gli all inners sono le persone nel percorso verso il risultato non sono quelli in cima alla montagna ok per questa ragione abbiamo deciso di fare qualcosa che non abbiamo mai fatto nel 2018 avevamo tantissimi speaker quindi non c'era tempo quest'anno abbiamo deciso di avere meno speaker ok gli speaker li annunceremo fra un po di tempo perché stiamo lavorando a qualche sorpresa ma quello che voglio che tu sappia che tu sei la persona più importante per noi in quell'evento perché tu salendo su quel palco potrai realmente cambiare la vita alle persone dandogli quel messaggio di forza di coraggio per fare in modo che facciano azione questa è zona all inners e questo è il nostro riconoscimento per te se sarai a milano assolutamente questo è importantissimo quindi in zona all inners cosa faremo prenderemo persone che hanno già avuto dei risultati che hanno già fatto un certo tipo di percorso le metteremo sul palco voglio che tu sia su quel palco ok ce lo dovrai dimostrare dovrai fare azioni in questi mesi dovrai ovviamente essere presente alla conference però quello che abbiamo deciso di fare è di portare vari esempi di storie di successo incredibili all'interno delle persone che diciamo sono all in del nostro mondo di persone che conosciamo che hanno avuto già risultati che si impegnano ogni giorno sul campo e non fare come le testimonianze no cioè che chi arriva dice ciao ho fatto 10.000 euro e sembri io dico che sembra una setta di tossici no bravo Matteo hai fatto 10.000 euro ma quando mi capitava di andare a questi eventi loro ti dicevano quello che avevano fatto ma tu ti chiedo che ma come come si fa allora categoricamente abbiamo deciso che in zona all inners le persone che saliranno sul palco diranno sì quello che hanno fatto ma spiegheranno come mostreranno come in modo che tu possa imparare da loro e prendere informazioni già su cose già testate già vissute già applicate dalle persone in modo che tu possa avere solo e unicamente strategie concrete e roba pratica quindi non saranno le storie del ciao ero un barbone in mezzo alla strada ho fatto un milione di euro bravo no sarà ciao ero messo male magari ho fatto facendo un esempio ho fatto questo 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 e questo e questo e questo nei dettagli devi fare questo 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 e questo e questo e potrai anche tu avere questo questa altra roba è altra roba siamo gli unici ad aver pensato una cosa del genere quindi ci devi essere a milano per vivere quello che stiamo organizzando ti garantisco che sarà incredibile i biglietti ok ticket diamond è per chi vuole stare chiaramente vicino agli speaker per chi vuole vivere il massimo dell'esperienza avere anche una consulenza con noi ed è già sold out il ticket diamond ha accesso completo per due giorni accesso al backstage cena tavola con gli speaker consulenza con me e fabio è già sold out il ticket vip è per chi vuole venire un giorno prima a fare un evento di networking quindi un un piccolo evento il giorno prima solamente con un gruppo ristretto di persone un piccolo training anche questo è sold out ragazzi rimangono solo disponibili i ticket premium e standard quindi esattamente in questo momento chi dal supporto di attivare il link il link è conference.linners.com in questo momento apriamo la vendita dei ticket premium e standard cosa include il ticket premium include l'intero evento di domenica e la cena subito dopo molto molto bello io consiglio a tutti ragazzi fate il ticket premium ve lo garantisco fate il ticket premium perché la cena dopo l'evento è qualcosa di incredibile la location è meravigliosa sarà una cena abbastanza di gala perché saremo tutti insieme dopo l'evento potrei stare chiaramente conoscere gli speaker conoscere tutti gli altri membri della della community fare networking il ticket premium include l'intero evento mattina e pomeriggio di domenica e la cena subito dopo ragazzi costa 149 euro è in questo momento in offerta promozionale non sto a fare i giochi del aumenta di prezzo no vi dico solo che posti limitati ok quindi fate azione subito gli altri ticket sono già sold out anche questi andranno sold out quindi blocca il tuo posto adesso e poi c'è il ticket standard che include solo l'evento ok solo l'evento e costa 99 euro quindi include l'evento dalla mattina alla sera completo 99 euro queste sono le due opzioni cosa importante 100% senza rischi cosa vuol dire vuol dire che se per qualsiasi motivo non potessi venire all'evento con un preavviso di almeno 30 giorni non perderai i soldi del biglietto questo è molto molto importante quindi basta che ci avvisi e per chi non riuscisse a venire gli restituiamo un coupon del valore del proprio ticket da spendere poi sul nostro sito o per i prossimi eventi quindi recuperi comunque un coupon del valore di quello che hai speso per il prossimo evento o per alcuni prodotti quindi queste sono le opzioni ricordo ticket diamond già sold out ticket VIP già sold out ragazzi fate azione ora perché ancora non ha il biglietto fate il ticket premium o standard in questo momento i ticket sono aperti il link è conference.allinners.com lo ripeto conference.allinners.com i ticket sono aperti su conference.allinners.com vai adesso blocca il tuo posto fatemi sapere se c'è qualcuno in diretta che si è già unito chi viene all'evento ragazzi chi viene all'evento chi c'è chi c'è ok chi c'è conference.allinners.com ok il link è in descrizione il link è in descrizione se sei su facebook è qui sopra sopra la diretta nel post se sei su youtube è sotto in descrizione ok quindi ragazzi fate azione prendete il vostro posto grande Ione che ci sarà grandissima grande Ione ovviamente che non si può perdere questo evento grandi grandi Katia presente dai 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 ragazzi fate il vostro acquisto adesso ragazzi bloccate il vostro posto prima che vadano sold out questi ticket ok quindi bloccate il vostro posto ora al miglior prezzo anche perché aumenteranno di prezzo sono limitati ticket a prezzo ridotto quindi oltre un tot aumenteranno di prezzo e poi probabilmente andranno sold out quindi vedete di fare azione subito vai Fabio esatto allora il prezzo è popolare anche se avevamo pensato di triplicarlo perché l'abbiamo mantenuto 99 euro perché vogliamo dare accesso a tutti ok perché c'è una tendenza sul mercato oggi digitale di aumentare di aumentare a best di prezzo che è dovuto perché se tu paghi di più studi di più o applichi di più soprattutto c'è troppa gente che compra roba poi non la applica la lascia lì e poi dice che non funziona il digitale mentre il digitale sta risollevando imprenditori sull'orlo del tracollo ma non del tracollo per la crisi per il fatto che la gente con il telefono paga chi appare qui ok non paga più la persona che è abituata a pagare eccetera quindi abbiamo mantenuto il prezzo 99 per farti fare azione subito perché non ti diciamo quanti ticket ci sono perché non ti diciamo a che numero alziamo il prezzo perché lo andiamo a fare secondo le nostre emozioni andiamo a vedere quanta gente fa azione subito se vediamo che poca gente fa azione oggi aumentiamo il prezzo domani funziona così se vediamo molta gente che fa azione in questi giorni manteniamo il prezzo quel prezzo perché perché vogliamo dare l'opportunità ai alle persone che fanno azione di pagare meno perché perché io credo che i soldi tu debba spenderli per crescere perché le informazioni ma soprattutto a parte quello che ti diremo noi ci siamo io Matteo ci saranno altri speaker non li abbiamo ancora annunciati ok puoi dire aspetto che annunciano gli speaker si aspetta che vada sold out rimani fuori dalla porta e poi bussa rimani fuori seduto per terra perché succede ci sono eventi che vanno sold out e tu rimani come un pirla lì a dire aspetto l'anno prossimo aspetta pure l'anno prossimo intanto nel mercato ti fregano il lavoro ti buttano giù l'azienda e tu rimani come un perdente che poi si lamenta e va a chiedere il reddito di cittadinanza a parte questo che è la verità dei fancazzisti questo non è il tuo caso perché se segui me Matteo sei uno l'inner vuol dire una persona che ha detto questo è il mio piano vado lì e mi prendo il risultato quindi io mi aspetto di vedere io sto già vedendo i primi acquisti di biglietti che stanno arrivando voglio complimentarmi con Manuela con Matteo con Sognela spero di averlo pronunciato bene che hanno già fatto azione Sergio anche ha fatto azione ragazzi fate azione adesso ok il link è qui sopra conference punto punto allinners punto com se sei su youtube qui sotto il link conference punto allinners punto com fai azione adesso blocca il tuo posto decidi di esserci io lo dico sempre ragazzi il ci penso non esiste cioè se tu inizi a tirar fuori il ci penso e il forse e il mi devo organizzare dalla tua vita no ma soprattutto non farcelo sapere perché se noi vediamo che tu ci pensi non puoi venire all'evento Vanessa anche biglietto premium acquistato grande Vanessa ragazzi bloccate il vostro posto soprattutto chi vuol fare il ticket premium ok bloccate il vostro posto perché i posti a cena sono limitati quindi non possiamo mettere mille persone a cena a cena penso che faremo un 150 persone 200 massimo di più l'hotel non può fare ragazzi bloccate il vostro posto chi vuol fare il ticket premium bloccatelo adesso questa sera ok molto molto importante i posti a cena sono limitati grandi ragazzi grandi ragazzi bloccate il vostro posto adesso io vi dico una cosa voglio raccontarvi un paio di storie una è quella di Thomas molti lo conoscono Thomas il nostro direttore artistico in marketing genius venuto al primo evento ragazzi aveva dormito in un campeggio per dirvi perché non aveva trovato tempo di prenotare l'hotel non sapeva dove andare arrivato a Rimini ha dormito in campeggio nemmeno nel campeggio dove doveva andare perché quello era chiuso se l'ha fatta a piedi con la sua tenda addosso ha dormito in un altro campeggio per essere a quell'evento ragazzi e oggi lavora con noi ha lanciato il suo prodotto è un imprenditore quindi ce ne sono tante di storie incredibili delle persone che sono venute agli eventi io però vi posso dire che chi viene agli eventi cambia la propria vita Marco Delendati l'ho visto ieri no l'altro ieri alla cena con i membri del mentor club ma non vi voglio raccontare la storia della sua azienda ok voglio raccontarvi quella di Serena la sua ragazza la sua compagna hanno lanciato insieme il suo negozio di parrucchiera un negozio normale in centro nel loro paesino quando hanno lanciato quando hanno lanciato il primo annuncio per promuovere l'inaugurazione sono arrivate circa se non sbaglio Marco non so se sei in diretta ma penso 500 persone il primo giorno a vedere no l'inaugurazione tra tutta la giornata c'erano già l'agenda di appuntamenti bloccati presi per due settimane Marco dopo quelle due settimane ha spento gli annunci ha spento la pubblicità perché non riuscivano a gestire la quantità di clienti che ti arrivano allora tu dirai sì vabbè ma è stato fortunato Marco Delendati è stato fortunato Marco è stato a tutti gli eventi è stato a tutti gli aperitivi che abbiamo fatto anche in giro è partito una volta da Parma è venuto a Milano per prendersi un aperitivo ed è ritornato indietro ragazzi c'è gente che piange perché l'evento non è a 5 km da casa eh ma è a 6 km non 5 allora è troppo distante no? eh ma cavolo l'evento c'era gente che per l'evento a Cervia diceva eh ma io cavolo sto a Rimini Cervia è lontano capito? c'era gente che ragionava così allora tu dove vuoi andare nella vita? Marco quando c'era l'evento a Roma me lo ricordo come fosse ieri io ero già lì dalla mattina perché ero arrivato il giorno prima Marco mi scrive e mi dice guarda che sono qua in hotel ed era la mattina del giorno prima dell'evento alle 10 e ho detto ma tu scusa mi sei arrivato il giorno prima di mattina presto neanche alle 10 le 9 dico ma a Roma ed è partito da Parma in macchina quindi fai quelle 5 ore di viaggio che ci saranno a che cacchio di ore è partito? partito alle 5 di mattina per essere lì alle 10 voglio dire una persona così perché lo fa? perché? perché? perché non ha niente da fare? no è un imprenditore adesso ha due attività non una due non ha niente da fare? no è pieno di cose da fare però ha capito il potere degli eventi dell'essere circondato da persone che fanno il tuo stesso percorso da persone che hanno esperienza Marco è venuto alla cena l'altra sera al mentor club e stava condividendo quello che ha imparato era tipo ha cerchiato di persone li stava mentorizzando su come gestire la propria attività dava dei consigli anche per l'apertura della partita IVA le cose quindi voglio dirvi questo è un po' il percorso che io consiglio di fare le persone venite agli eventi vi cambiano la vita ma se lo dicono tutti ok ci sono aziende che sono lì da 60 anni 100 anni 150 anni e fanno ancora gli eventi ci sarà un motivo ma ci sarà un motivo? se avessi organizzato la polo nord sarei venuta anche lì grandissima ticket preso grande ticket preso grande Simona ci vediamo all'evento come vi vedo a Simona perché allora Simona è un avvocato ok un'avvocatessa che ci siamo visti domenica e mi ha detto ma io ho un sacco di clienti magari poi ho un'udienza in tribunale si sticazzi però Simona ha fatto comunque azione ok? perché Simona sa che male che vada quei 100 euro tanto non li perde perché vengono dati come bonus tra l'altro quindi non hai rischi cioè quei 100 euro investili su di te piantala di investirli in gratte vinci roba che è in controllo degli altri perché se ti porteranno via tutto nella tua vita e succederà purtroppo che verrai sbattuto per terra per sfighe circostanze bastarde tu non potranno mai lavarti il cervello e toglierti la conoscenza se a me Matteo togliete tutto adesso 0 euro noi torniamo a fatturare milioni l'anno perché siamo delle persone che valgono quella cifra ok? se tu ci vedevi nel 2015 io e Matteo non facevamo il fatturato che facciamo oggi perché? perché non valevamo quella cifra e cos'è cambiato dal 2015 a oggi? è cambiato l'investimento che abbiamo fatto in noi perché noi abbiamo capito che invece di investire in azioni in bitcoin in stronzate l'investimento in noi ci portava interessi al 1000% quindi mi hanno detto ma chi ce lo fa fare di comprare immobili? io investo in Fabio Gallerani e Fabio Gallerani mi fa guadagnare 1000% in più devi pensare così anche tu soprattutto all'inizio se no non esci dalla mediocrità e la mediocrità è pieno di gente pieno di gente pieno di competizione quindi fai questo ragionamento ci vediamo a Milano mi viene in mente anche Noemi che è venuta agli ultimi eventi è venuta a Serbia è venuta anche a Dubai cioè partite è venuta a Dubai adesso ha aperto la sua azienda sta volando ok? com'è possibile? sono dei fenomeni sono persone normali ragazzi sono persone normali però hanno capito il potere del networking dell'essere insieme del frequentarti con persone giuste dell'andarti a prendere le informazioni e poi soprattutto al di là della qualità dei training che vi garantisco è eccezionale chi c'era a Serbia ragazzi? chi c'era a Serbia? l'avete visto il mio intervento? solo il mio quante informazioni c'erano? cioè una roba pazzesca solo quello solo quei neanche due ore di intervento che ho fatto già era la vita io sono salito sul palco e ho detto ragazzi potrei raccontarvi mille cose motivazionali della mia vita? sti cazzi le trovate sul mio sito ve le andate a vedere se volete sapere un po' chi sono tanto mi conoscete già andiamo a vedere come si fa il grano e sono andato a spiegarvi facebook instagram dove che tecniche usare per ognuna di queste cosa funziona adesso ragazzi è tanta roba al di là di questo che vi garantisco è tanta roba al di là della bellezza della location di tutto ragazzi le persone fidatevi le persone che ci sono alla all inners conference è qualcosa di incredibile e non vi parlo degli speaker vi parlo dei partecipanti vi parlo di noi di chi è lì conoscete persone incredibili puoi venire da solo e dopo un minuto avere mille amici ti garantisco che puoi venire da solo dopo un minuto avere mille amici grandissimi le mie mitiche slide che dico anche la mia io vado all'evento per conoscere gli altri cioè in altri eventi gli speaker si isolano e fanno gli associali perché sono tutti dei fenomeni io Matteo e tutti gli speaker che seguono la nostra filosofia a questo evento siamo in mezzo alla gente ok ci interessa entrare in contatto energetico perché io prendo energia da un imprenditore che si risolleva e mi sta aprendo altre tre aziende mi dà energia l'energia va anche assorbita dagli altri va date assorbita quindi mentre io e Matteo creiamo contenuti tutti i giorni gratuiti creiamo dei contenuti gratuiti che la maggior parte dei formatori ti carica perché non ha voglia di crearli gratuiti quindi quelli che create li carica e quindi noi sprechiamo energia noi facciamo questo evento per creare una massa di energia così positiva che quando entriamo in quella sala ci ricarichiamo per un altro anno per questa ragione abbiamo deciso di fare solo un evento massivo ogni anno perché quell'energia che prendiamo in quella sala ci basta per un anno intero e ti assicuro che in questo team e in questa azienda lavoriamo a ritmi che per molte persone sono inumani ma perché perché viviamo una missione non è un lavoro per noi formare gente è una missione per portare valore agli altri con strumenti che purtroppo non sono usati nell'economia oggi vedevo il tg solite notizie di merda la disoccupazione è calata dello 0,2% wow altri 20.000 persone precarie che muoiono di fame ogni mese la disoccupazione giovanile così nell'angolo è aumentata al 31,4% 31,4% tre persone su dieci under non so quanto 25, 30 quello che è non fanno un cazzo in Italia ti sembra normale? ti sembra normale? perché? perché non hanno voglia di fare nulla non è una crisi la crisi è nella formazione nel fatto di andarsi a prendere delle capacità per uscire là fuori e farsi pagare perché amico mio se tu non impari a farti pagare oggi e tu facci il dipendente finisci in mezzo alla strada breve perché l'evoluzione tecnologica sta facendo vedere la verità mentre una volta tutti lavoravano con il lavoro indeterminato anche se non valevano una cippa oggi con la crisi che è l'evoluzione dell'umanità perché le persone finalmente vengono pagate per quello che valgono oggi sono cazzi amari quindi qual è la tua scelta? continuare a fare il fenomeno a votare per chi ti dà il reddito oppure sbatterti e creare un asset che sei tu adesso non è un discorso politico sto webinar però ti voglio far pensare perché da me Matteo e tutta la crew ti diremo sempre la verità e la verità fa male ok? non ti diremo che è facile lavorare online ti diremo solo che devi circondarti da persone come te fondamentale e poi avere gli strumenti adatti ma se non ti circondi di persone come te fallisci anche se hai gli strumenti adatti ah Fabio l'altro giorno ero in aereo e ho visto un documentario sulla storia di internet e hanno fatto vedere una serie di pubblicazioni nei giornali era il 1999 e le testate giornalistiche di praticamente tutti i giornali in America nel 1999 cioè stiamo parlando di 20 anni fa giusto? 999 09 19 stiamo parlando di 20 anni fa le testate giornalistiche in America scrivevano seguimi bene scrivevano internet porta nuove opportunità internet porta nuove opportunità lavorative il futuro è su internet chi lavorerà su internet diventerà ricco 1999 io mi chiedo dove cazzo erano le persone? perché non l'ha capito nessuno? sono passati 20 anni noi siamo ancora qui a dirlo e sono in pochi quelli che lo capiscono cioè è allarmante allora tu non mi puoi dire che c'è la crisi le cose quando i giornali sono 20 anni ok? 20 anni fa hanno scritto internet porta opportunità allora tu non mi puoi dire c'è la crisi c'è questo ma dove cavolo eri? non hai nemmeno aperto un giornale per andarti a leggere che cavolo succede nel mondo è responsabilità del governo? no è responsabilità dell'Unione Europea? no è responsabilità di Salvini o dei Grillini o del PD o di Berlusconi? no sicuramente là fuori ci sono condizioni che possono favorire più o meno l'impresa e quello che succede certamente ma il 99% ti garantisco che lo fai tu e come guardi il mondo e come ti comporti e quello che fai perché se 20 anni fa i giornali dicerono una cosa e lo continuano a dire oggi perché nessuno fa azione? perché continui a dire eh ma io non sono portato per questo nessuno nasce portato per questo nessuno nemmeno noi con il livello di tecnologia e semplicità che c'è adesso chiunque ce la può fare la realtà è che devi intraprendere il percorso devi fare azione devi partire devi darti la mossa e smettere di raccontarti frottole eh ma l'evento è distante ma non lo so cioè la scusa del devo vedere cosa farò il 6 ottobre non esiste veramente non esiste cioè e te lo dico proprio chiaro per tutti voi che mi seguite mi iscrivete eccetera se non venite io non vi rispondo neanche i messaggi a meno che uno non abbia impegni ovviamente veramente importanti ma parlo di roba veramente importante il matrimonio di tuo figlio il battesimo cioè una roba veramente importante ma se sono scuse del cavolo non mi scrivere Matteo mi dai un consiglio per favore perché non ti posso aiutare se tu non sei in grado di fare qualche chilometro a venire a un evento che ti cambia la vita io non ti posso aiutare ma lo sai perché? perché non hai il mindset non hai la mentalità allora io anche se ti do il consiglio che tu vuoi so già che arrivi a fallire quindi non ti rispondo neanche ai messaggi non mi scrivere in privato ciao Matteo mi dai un consiglio non mi interessa non ti aiuto perché devi venire all'evento voglio essere chiaro e voglio essere diretto perché ti dico quello che ti serve ti dico quello che ti serve vieni agli eventi ti cambia la vita lo continuo a dire devi farlo poi vedrai te lo possono confermare tutte le persone che ci sono state tutte le persone che l'hanno visto tutte le persone che sono venute però togliti completamente dalla tua testa questa cosa del sì poi vedo non funziona così tu prima blocchi la data e ti organizzi e poi ti garantisco che la vita cambia il problema è che noi non prendiamo mai decisioni non siamo persone che prendono decisioni eh ma devo vedere chi mi tiene i bambini ma è tra quattro mesi c'hai quattro mesi di tempo quanti mesi ci sono adesso giugno luglio agosto quattro mesi quattro mesi di tempo per trovare una persona che ti tiene tuo figlio allora è una scusa o è un problema è una scusa è una gran scusa del cazzo va bene perché sono scuse queste non ti portano da nessuna parte nella vita devi essere una persona che prende decisioni quindi se vuoi venire fallo ma il forse ci penso mi devo organizzare non esiste ti pidi il giorno libero se vuoi venire ti organizzi fai quello che devi fare ma vieni ok come simona simona evoca a te ci avrà da fare ci avrà le sue cause ci avrà le sue cose e poi ho detto no io quel giorno non ci sono perché per me è importante è importante per te questo evento è il tuo futuro è la tua vita eh ma c'ho la partita a calcetto c'ho il giro in moto che ho organizzato con gli amici ma di cosa stiamo parlando io ragazzi c'avevo gente che mi diceva io vi dico una cosa ragazzi ascoltatemi bene quando noi facevo le presentazioni di network marketing chi fa network marketing l'ha vissuto io invitavo le persone e mi dicevano eh non posso c'ho la partita di calcetto ma tu hai un'opportunità che ti può cambiare la vita e tu dai la priorità al calcetto qual è il problema eh ma non posso perché c'ho la pizzata con gli amici eh vorrei venire guarda però c'ho la pizzata allora tutte queste persone che paccavano sai cosa fanno oggi sono passati sette anni lo sai cosa fanno la fame ok queste persone che mi prendevano per il culo e mi paccavano davano la priorità alla partita a calcetto piuttosto che venire ai miei eventi che ero sfigatissimo sette anni fa ve lo garantisco queste persone oggi mandano il curriculum a support chiocciola bisupergenius.com per lavorare per me questo è quello che succede e di tutte le persone ok con cui ho avuto contatto negli ultimi sette anni c'è solo una persona che mi ha ascoltato no una sola persona che è rimasta con me sempre sempre indovinate chi è il cofondatore di marketing genius Fabio Gallerani ok quindi tutte le persone che comunque sono rimaste attorno a noi in questo periodo hanno veramente stravolto la loro vita perché siamo dei fenomeni no non ti sto dicendo che siamo dei fenomeni ma sappiamo dare delle priorità nella nostra vita e ti vogliamo insegnare le cose che abbiamo imparato sia a livello di mindset sia a livello di capacità tecniche ok ma soprattutto siamo persone io e Fabio gli unici tra tutte le persone che avevamo attorno sette anni fa che sono rimasti lì che sono rimasti giorno dopo giorno a dare delle priorità a dare delle priorità Fabio il giorno del suo compleanno era lì a fare il webinar cioè voglio dire quanta gente c'è che c'ha da fare i cazzi suoi nel giorno del suo compleanno era lì a fare il webinar capito allora nel momento in cui tu è più importante la tua missione il tuo futuro la tua vita della cena al giorno del tuo compleanno vuol dire che lì forse sei molto vicino a cambiare la tua vita la quantità ragazzi di compleanni di Natali di Pasque e di onomastici e di cazzate che io e Fabio abbiamo saltato non avete idea della quantità di compleanni Natali Pasque che abbiamo passato a lavorare magari anche lontano da casa magari anche lontano da casa e Natale lontano da casa ragazzi è pesante vi garantisco che è molto pesante però c'era la nostra vita il nostro futuro di mezzo allora io non ti sto dicendo vai dall'altra parte del mondo no salta al Natale non passa ti sto dicendo domenica 6 ottobre vieni basta non ti sto dicendo rinuncia al Natale all'onomastico quindi ti ripeto a meno che non sia una cosa veramente importante ma veramente importante perché capisco che se è il tuo matrimonio cioè ragazzi ovviamente le cose veramente importanti vengono prima però dopo quelle c'è la tua vita ok c'è il tuo futuro vieni domenica 6 ottobre e prendi il tuo biglietto adesso compromettiti ok prendi la tua decisione oggi nel momento in cui diventi proprio è come un muscolo nel momento in cui alleni la capacità di prendere decisioni diventi veramente incredibile diventi veramente proprio forte e ottieni le cose più in fretta se tu non prendi decisioni in fretta le persone che ti pagano nemmeno loro lo faranno mai hai capito che tutto il tuo mondo è un riflesso di come sei te se tu sei lento ci pensi eccetera i tuoi clienti saranno lenti ci penseranno bla 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 ci metti 6 mesi a decidere se venire all'evento oppure no allora ci metterai altri 6 mesi a decidere se iniziare a studiare oppure no e ci metterai altri 6 anni ad avere il tuo primo risultato brucia le tappe fai azione zio cash clicca sul link e piglia il tuo biglietto vai Fabio dopo questo lungo monologo bello 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 monologhi chiaramente se è la prima volta che ci vedi in diretta io e Matteo per questa diretta ci siamo preparati quando? alle 8.45 quindi per farti capire che quello che stiamo dicendo adesso a parte che non è pianificato ma è detto con l'esperienza che è il vissuto come ti abbiamo detto fare un evento estremamente dispendioso farlo a Milano ancora di più farlo all'NH Congress Center 10 volte di più perché è un centro congressi enorme potevamo prendere un hotel a tre stelle e farlo in una sala da 200 persone sì ma che gusto c'è a noi ci piace creare energia massiva e l'abbiamo già fatto per tre eventi non è il primo evento che facciamo tutte le persone che hanno partecipato agli altri eventi c'era qualcosa di clamoroso quando tu entri anche se vieni da solo ti sembra di essere a casa dicono che tu puoi non importa quanto tempo è che conosci qualcuno l'importante è quanto condividi con qualcuno per creare legami forti c'è gente che ho visto una volta nella mia vita che è venuto a un mio evento un evento nostro di Marketing Genius e ho un rapporto più forte con questa gente che con gente che conosco da vent'anni perché perché condividiamo la stessa missione che è quella di volere di più di fare risultati di mettere una volta per tutte la parola sono a posto nella propria vita che vuol dire ho abbastanza soldi ho il lavoro che voglio ho la carriera che voglio le persone attorno a me sono quelle che voglio e quindi per me è questa la soddisfazione maggiore solo a fare una cena che è chiaro la cena di domenica 2 giugno che abbiamo fatto era una cena con un club speciale di persone che fanno azione si chiama Mentor Club non ci entrerai mai perché anche se fai la mentorship con noi devi averla finita e dimostrarci che spingi perché quel club lì è veramente l'elite della gente che ci segue e solo fare quella breve cena mi ha ricaricato le pile per altri sei mesi perché è incredibile sei ore otto ore con persone che sono all in vuol dire che non sentono le critiche degli altri hanno un obiettivo che è totalmente diverso dal mio io sono imprenditore digitale ho aziende di formazione e facciamo anche progetti da imprenditori digitali cambiamo sistemi o là un bordello c'è gente che fa l'avvocato c'è gente che fa gli impianti di sicurezza non importa perché a questo evento ci sono persone che hanno preso una decisione bruciare il piano B e andare dritto verso il piano A che è quello della loro attività che si sono stancati di avere lo stress di sopravvivere sopravvivere non esiste per la gente che segue ma è Matteo sopravvivere uguale essere mediocri essere mediocri è una tua scelta perché anche noi eravamo mediocri nel 2015 quando tiravamo avanti estate dopo estate a fare i PR per tirare su quei soldi che ci servivano per vivere di merda d'inverno per andare alla prossima estate ma poi abbiamo detto cosa ci manca per diventare eccellenti ci manca investire in noi e quindi questo percorso a cui portiamo attraverso migliaia di persone ormai ci sono 30.000 e passa persone nella nostra azienda l'abbiamo vissuto noi per questa ragione siamo estremamente efficaci a parte questo chi è in diretta che è venuto agli altri eventi condividi le tue emozioni fammi sapere come è stato usa solo una parola come è stato l'evento in cui hai partecipato magari il 2017 18 18 ne abbiamo fatti due poi abbiamo deciso di farne uno massivo come quest'anno qual è stata la parola che descrive meglio quell'evento che hai fatto soprattutto che persone hai incontrato cos'è cambiato io Fabio vorrei fare intanto uno shout a Clara Luisa Liang Matteo Marilena Simona Francesca Pasquale Rosa Dario Nicola un altro Nicola che hanno preso il loro ticket adesso ragazzi strepitosi io non so quanto tempo durerà la vendita anche perché vabbè tu puoi credere alla scarsita o no puoi credere che ok no questi qua hanno una sala in me cazzi tuoi con quella mentalità non voglio neanche vederti sai perché? sei diventato ok sei anche spento la telecamera perché era troppo censurabile quello che dico perché? perché tu hai un'energia negativa io non voglio incontrarti cioè la nostra selezione a questo evento si basa sull'azione veloce perché se tu ci pensi poi contamini le persone che non pensano e le persone che non pensano fanno risultati quindi non mi preoccupo neanche se lo compri fra tre mesi chi se ne fai l'importante è che tu ci sia poi se molta gente lo prende poi non viene perché? perché ha paura non avere paura sappi che se anche vieni da solo avrai un'emozione unica dell'incontrare persone che non hai mai visto prima ma che ti sembrerà di conoscere per sempre devi provare questa emozione ti assicuro che solo quella vale l'esperienza io ho un sacco di eventi sono andato da solo a un sacco di eventi cioè i miei amici poveri non volevano andare vado io ho capito i miei amici al baretto a Ibiza a bersi le birre San Miguel non mi fregava niente la loro crescita personale io andavo da solo ragazzi sono andato a Roma Milano Bologna da solo in macchina partivo alle 5 del mattino mi svegliavo per andare a Roma in macchina da solo sticcazzi agli amici ok? nessuno viene vai da solo esatto ti racconto un'aneddota che non sai neanche te ieri sera mi è arrivato un'email di uno dei nostri mentor e ha scritto il 24 o 25 giugno a Los Angeles faccio un evento da 100 persone devi guadagnare più di 300 mila euro l'anno di profitto quindi va bene posso mandare l'application ho mandato l'application ok il 23 24 o 25 io me ne vado a Los Angeles Matteo viene? no non viene perché ha un altro impegno chi se ne vede glielo ho detto non lo sa neanche io me ne vado a Los Angeles e sti cazzi Los Angeles è più lontano di Milano se vivi in Calabria sì sono 12 mila non so 10 mila chilometri ci vado comunque perché perché quando c'è l'occasione di entrare in contatto con chi è te stesso 10 per nel tuo percorso devi andare perché quell'evento magari non si fa più magari cambia la mia vita magari mi crolla tutto addosso non ho più i soldi per andarci non lo sai mentre non è successo quello gioca su te stesso investi perché più carichi conoscenza su te stesso più quando arriva la batosta non ti tocca è come un muro è come uno che si pompa in palestra gli dà un pugno non si muove è questo l'effetto che devi avere per tenere il ritmo in questo mondo infame che è sempre più spietato per le persone che non si muovono per le persone che vogliono la sicurezza ma la sicurezza più si va avanti più diventerà veramente triste vivere con la sicurezza soprattutto perché ti permetterà di non avere nulla di quello che desideri quindi ragazzi io andrei in chiusura Fabio ricordoli il link conference.olinnest.com è qui sopra nel post se sei su facebook qui sotto se sei su youtube fai azione adesso prima che il prezzo aumenti o addirittura che i ticket vengano chiusi se vuoi fare il biglietto premium che include anche la cena fai azione oggi stesso perché i posti sono ultra ultra limitati soprattutto per il ticket premium perché arrivati a penso massimo 150 persone deve dircelo l'hotel le cene sono già occupate perché sono i ticket VIP quindi è vero è vero e abbiamo il ticket premium ok quindi fate azione adesso ok blocca il tuo posto vai grazie Fabio grazie Matteo è sempre un piacere andare in diretta dare un messaggio di forza a tutte le persone che ci seguono magari ci segui da tanto tempo non hai ancora fatto azione continua a seguirci ma ti spiego di nuovo se tu non muovi quel dito e fai azione oppure ti muovi e vai a prenderti quello che è tuo puoi seguirci altri due anni non cambierà nulla non cambierà nulla l'azione prima di tutto solo l'azione fa la differenza ciao ragazzi buona serata ora rimane solo una cosa da fare unirti ci vediamo a Milano domenica 6 ottobre buona serata ciao ciao